Io mi chiamo Chiara. Ho un marito, due figli, un lavoro che mi piace, una casa. Qual è la mia attività principale? Correre. Corro per essere una brava madre, una buona moglie, una persona affidabile nel lavoro e anche un po' per cercare di esistere per conto mio. Corro tanto ma non ce la faccio mai. Sono una mamma che non ce la fa fare tutto. Il che fa di me una mamma non proprio è perfetta.